Musica 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 A una una io le sentì a cantare, come pariane, non uscio dell'umore, come pariane, non uscio dell'umore. A una io le sentì a cantare, come pariane, non uscio dell'umore, come pariane, non uscio dell'umore. A una io le sentì a cantare, come pariane, non uscio dell'umore, come pariane, non uscio dell'umore. A una io le sentì a cantare, come pariane, non uscio dell'umore. A una io le sentì a cantare, come pariane. A una io le sentì a cantare, come pariane, non uscio dell'umore. A una io le sentì a cantare, come pariane, non uscio dell'umore. A una io le sentì a cantare, come pariane, non uscio dell'umore. A una io le sentì a cantare, come pariane, non uscio dell'umore. a cantare, come pariane, non uscio dell'umore. Questa settimana, diciamo, dedicata a Archiotruscia, col titolo Archiotruscia si mostra. Scusate un attimo, ma qui c'è il telefono. La musica di sottofondo, dai. Scusate sempre così. Quindi vi ringrazio tutti. Siete venuti sempre, quasi sempre, tutte le serate, non solo stasera. Questo ci ha fatto molto piacere. E, diciamo, il bilancio non poteva essere più che positivo, insomma. Ecco, siamo rimasti soddisfatti. Ringrazio i soci che hanno collaborato, pure, per mettere a disposizione questi quadri che ho detto. Poi tutti coloro che hanno lavorato un po' più nell'ombra. Insomma, ringraziamento a tutti, perché ognuno ha dato la sua parte. E questo, ovviamente, ci fa molto piacere. Ringraziamo l'Italantuscia che permette, sostanzialmente... E, a quale dono, che mi sembra un po' il suo albore, questo cappellino. Ma, per me, da un'orchestra italiana, è giusto? E, l'ho pensato, chiuderà. Me la reticono in tante. E, con questo, mi sembra un po' il suo albore. E' una nota simpatica, pure questa. Grazie di nuovo a tutti e arrivederci al prossimo anno. Al prossimo anno. Grazie. 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 Grazie.